Al nono Giunta, lanciato di sinistro da Mattei, gira in rete il pallone dell'1-0. Ancora un avvio sprint per i Lombardi alla ripresa del gioco. Quinto minuto, tiro cross di Bruno e Giunta di petto, sigla il 2-0. Si attende la replica dell'Udinese e invece ancora l'inarrestabile giovane centravanti del Como a segnare sul suggerimento di Mattotti. 3-0. Poi con perfetto senso della scena l'eroe della giornata esce dal campo, forse per non inferire. L'Udinese, pur in giornata no, continua a cercare di costruire l'azione gol. Eccoci qua, c'è scritto sul cartello dei tifosi bianconeri alle spalle di Miano ed è digno di testa, segna il gol della bandiera.